Buonasera, grazie a chi si è collegato, aspettiamo ancora qualche secondo per dare tempo a qualche piccolo ritardatario di collegarsi. Grazie. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera, grazie a tutti. Ciao Simon, benvenuto, grazie. Come vi dicevo, l'agenda di questo seminario, di questo workshop è molto snella. Inizieremo con una presentazione delle nostre due società e poi andremo, grazie all'intervento di Simon, a capire quali siano le tematiche connesse all'usabilità e quindi anche all'accessibilità, che è un tema primario nei nostri interessi, all'interno del design di servizi della pubblica amministrazione. Parleremo molto brevemente dell'opportunità che ci dà Consip con il bando SAC2 per accedere anche a questi servizi e alla fine ci aspettiamo anche delle domande da parte vostra che potete imporre fin dall'inizio nell'apposito spazio che ci lascia questo scopo Zoom. Anguess è una spin-off del Politecnico di Milano, nasce nel 2015 ed è nota in Italia come la prima piattaforma di crowdtesting. Crowdtesting nel senso che nella nostra piattaforma sono iscritti più di 50.000 tester italiani con un complesso di dispositivi, di sistemi operativi di release che danno fondamentalmente il panorama completo della copertura di dispositivi digitali sul mercato attualmente. Di cosa si occupa Anguess attraverso crowdtesting? Anguess si occupa della qualità del prodotto digitale. Il concetto di qualità è un concetto di cui tutti noi parliamo ma molto spesso è difficile definirne precisamente i contorni. Noi ci abbiamo provato e nella nostra interpretazione la qualità consiste, si racchiude, si somma con la soddisfazione nell'utilizzo del prodotto digitale da parte dell'utente finale. Per avere questa soddisfazione sono necessari alcuni capisaldi. I primi capisaldi sono la qualità funzionale, quindi un software che non sia caratterizzato da bug, da errori o da interruzione di flusso. Alla base insieme alla qualità del prodotto c'è anche la sicurezza del prodotto stesso, quindi sia un prodotto sicuro, sia un prodotto non penetrabile, sia un prodotto che gestisce le informazioni fornite dagli utenti in maniera sicura e non accessibile a terzi malintenzionali. Per questo è solo la base della piramide della qualità. Sopra il tassello di qualità e sicurezza noi intastoniamo l'esperienza digitale nell'utilizzo del prodotto. Cioè non è sufficiente, è necessario ma non sufficiente che il prodotto sia libero da bug, il prodotto deve essere anche facile da utilizzare, deve essere ben progettato e deve essere veloce e deve rispondere alle aspettative degli utenti. Soltanto grazie a questa combinazione di qualità, sicurezza ed esperienza si raggiunge la soddisfazione nell'utilizzo di un prodotto digitale e in che cosa si traduce la soddisfazione? Nel fatto che il cittadino o l'utente utilizzi quel prodotto continuamente e quindi non abbia difficoltà a tornare ad utilizzarlo. Come assicuriamo noi la qualità del prodotto digitale in Anguess? Tramite il crowd testing. Attraverso questa parola si vuole significare la metodologia di testare i prodotti, i servizi digitali tramite una community, tramite utenti reali. Quindi una community composta, variegata e diversamente profilata, però composta essenzialmente da utenti reali. Quindi non soltanto specialisti e esperti informatici nell'utilizzo di prodotti, ma anche i veri e propri utilizzatori finali del prodotto. Quando parlo di community, noi intendiamo una community proprietaria, quindi una community che si chiama Triber, all'interno della quale possono iscriversi tutti i cittadini, tutti gli utilizzatori di prodotti digitali, di servizi digitali, e che è caratterizzata da una altissima fidelità degli utenti. Infatti quando si parla di community non bisogna pensare a dei panel randomici o casuali di utenti che vengono selezionati tramite social network per fare delle attività superficiali su un street digitale, ma si parla veramente di una community proprietaria continuativa, quindi che risponde alle nostre selezioni in maniera continuativa. E come facciamo a farlo? Lo facciamo tramite dei meccanismi di remunerazione sulle prestazioni corrisposte all'interno della piattaforma, ma anche di gamification, quindi di challenge all'interno della piattaforma, che permettono di mantenere la community costantemente ingaggiata e permettono di acquisire anche reputazioni all'interno della community che permettono agli utenti di accedere a più campagne, anche campagne particolarmente interessanti o remunerative. La piattaforma è ovviamente compliant, tutte le informazioni sono gestite in maniera compliant al GDPR, e tutti i pagamenti effettuati tramite la piattaforma verso i tester sono in regola con la normativa sui micropagamenti tramite piattaforme digitali, quindi micropagamenti tramite lavoro intermediato da piattaforme digitali. Rispetto alle aree con cui noi interpretiamo la qualità del prodotto, si declinano ovviamente le linee di business di Anguess, Anguess Quality, Anguess Experience e Anguess Security. Cosa intendiamo per quality? Lo ripeto, intendiamo la possibilità di testare i servizi digitali, asset digitali, siano OS mobile, siano siti web, o siano anche piattaforme non di risposta direttamente su internet, quindi piattaforme di fornitura di servizi. Quindi li testiamo per verificare che non siano aspetti da bug prima che vengano utilizzati dagli intenti finali. Il processo di test di qualità del software parte con la definizione degli obiettivi insieme al cliente, con il setup del test adatto per quel determinato scopo, con la selezione della parte del crowd, della community, in linea con le esigenze del cliente e tipicamente in questo caso parliamo di tester certificati, quindi esperti in ricerca di bug, che procedono al rilevamento dei bug tipicamente in archi di tempo molto ridotti rispetto alle attività di bug hunting tradizionali fatte tramite, non tramite, tramite la community e queste attività possono essere eseguite tramite la piattaforma anche dal cliente finale, oppure l'output finale può anche essere o un report dettagliato oppure una call di restituzione dei risultati da condividere insieme al cliente. All'interno della famiglia di test funzionali, noi includiamo tutta una serie particolare di test, sia uno test di bug hunting tradizionale o esplorato dei test, oppure anche test di bug hunting più feedback dal punto di vista del cliente, che è una modalità utile a raccogliere sia insight qualitativi che insight esperienziali. E all'interno della parte di software quality noi intendiamo anche tutta la parte di automation, ci sono particolari tipi di test o su particolari tipi di applicazioni che possono essere applicati automaticamente tramite dei percorsi di test automation che si combinano nella nostra metodologia molto bene insieme alla parte di crowd testing. Come dicevo, il secondo ambito di verifica della qualità del prodotto è la verifica della qualità dell'esperienza del prodotto, quindi la possibilità di utilizzare, di andare a testare i prodotti tramite utenti finali, non soltanto di andare a testarli, ma anche di andare a verificare le aspettative che possono avere gli utenti finali di un certo servizio digitale, quindi i cittadini, ancora prima che il prodotto venga disegnato. Quindi ci sono delle, dipendendo dagli obiettivi del test, si può decidere insieme all'utente, scusate, insieme all'ente, che può decidere il tipo di test, che può anche essere un test su prototipo, oppure un A-B test per andare a verificare quale può essere la soluzione favorita da parte del cittadino rispetto a un servizio digitale. Si viene fatta ovviamente, e la cosa importante da sottolineare, è che tutte queste attività non vengono fatte tramite tester certificati, quindi esperti informatici, ma vengono fatte tramite utenti reali. Quindi se c'è bisogno di andare a verificare le aspettative o il feedback di utilizzo di un qualsiasi servizio digitale di un ente pubblico, noi abbiamo la possibilità di andare a selezionare all'interno del nostro crowd i veri e propri utilizzatori, coloro che saranno veramente gli utilizzatori finali di quel servizio digitale, e quindi possiamo andare a verificare sia le aspettative precedentemente al design del prodotto che i feedback, quindi i riscontri su quel prodotto effettuati direttamente dagli utenti finali. Ovviamente l'attività, la metodologia consente di fare delle attività che sono sottoposte poi all'analisi da parte di ricercatori certificati, che traggono dagli insight ritrovati dagli utenti, traggono tutti i suggerimenti, tutti le suggestions per i designer o per gli sviluppatori, in maniera da correggere le frizioni che possono essere di ostacolo all'utilizzo del prodotto digitale. Alcuni test che rientrano, facciamo rientrare nella famiglia dei testi di usabilità, sono anche test, come dicevo, abitest quali quantitativi, test di prototipi, e tutti i test di accessibilità, sia verifiche tecniche che verifiche soggettive con utenti disabili, cui poi probabilmente ci darà un riscontro un po' più dettagliato Simon nel suo intervento. L'ultima parte, l'ultima linea di business di cui vi accennavo precedentemente, è quello che ha a che fare con la sicurezza del prodotto digitale. Quindi entriamo nel campo, diciamo, della nicchia di attività di cyber security, perché parte della nostra community è composta proprio da specialisti di sicurezza. Quindi da ethical hackers, da noi selezionati, da noi profilati e certificati, che svolgono attività, secondo lo stesso modello che abbiamo visto precedentemente, però orientate alla ricerca, in una modalità di bug bounty, delle vulnerabilità del software. Cosa intendiamo per ricerca di vulnerabilità del software? Intendiamo quattro macrofamiglie di attività. I tradizionali penetration test, con delle differenze che poi andrò a dettagliare, dei penetration test continuativi, che sono appunto quelli che nominavo col nome di bug bounty, quindi l'apertura della caccia di bug in cui si sfidano i nostri ethical hackers, la possibilità di gestire dei vulnerability disclosure program, quindi la possibilità di ricevere da parte della community, non proprietaria di Anglese, ma comunque della community aperta a internet, delle segnalazioni di vulnerabilità e processarle attraverso i nostri specialisti per restituirle ai gestori del servizio, e poi tutte quelle attività di red teaming che sono funzionali alla verifica della vulnerabilità, diciamo, soggettiva, cioè tutte quelle attività che vengono fatte involontariamente da noi utenti su internet o sui nostri tool e digitali, che possono aprire le porte a utenti malintenzionati. Un piccolo focus sulla differenza fra penetration test classico e penetration test continuativo, quindi bug bounty, è il fatto che in un penetration test classico tipicamente ci sono pochi professionisti, quindi pochi esperti a lavoro sullo stesso asset, oppure la difficoltà di integrazione dei dati raccolti con i sistemi dei clienti, oppure anche una reportistica abbastanza classica non integrata con i sistemi di ticketing dei clienti. Sono tutti problemi che noi abbiamo superato tramite i programmi di bug bounty, che ci consentono di avere delle vulnerabilità fondamentalmente in real time, perché la piattaforma sulla quale vengono esposti i bug è anche gestita, può anche essere gestita direttamente dal cliente. L'effetto moltiplicatore, che è tipico del crowd testing, quindi la possibilità di avere molti esperti al lavoro su uno stesso asset, quindi con la possibilità di moltiplicare l'attività e di avere sempre l'effetto fresh eye sull'attività e sulla ricerca del risultato, e soprattutto un modello in cui non si paga per il tempo speso dal ricercatore, ma si paga per il risultato ottenuto. I bounty sono delle vere e proprie ricompense che vengono concordate prima del lancio dei test con il cliente e vengono pagate soltanto se lo specialista, l'hackers, ritrova effettivamente quel bug, certifica il processo con cui ha trovato quel bug e restituisce anche delle suggested mitigation per andare a eliminare la possibilità che quel bug venga ripetuto. A questo punto io interrompo la condivisione, spero di essere stato nel tempo assegnato mi dalla regia e cedo la parola a Simon per il suo intervento. Grazie William. Allora, vediamo intanto se riesco io a condividere. Ovviamente, ecco, ci sono quasi. Bene, ottimo. Allora, grazie, vi faccio una rapida presentazione di Che cos'è Ergo Project e poi passiamo a parlare principalmente di usabilità e accessibilità nell'ambito della pubblica amministrazione e a ragionare se questo è più un problema per chi deve rendere le cose usabili e accessibili oppure è un'opportunità per la pubblica amministrazione ma questo ce lo direte anche voi. Mi metto il cronometro in modo da stare nei tempi. Amministratore e founder di Ergo Project. Chi siamo? Che cosa facciamo? In realtà siamo una società che da ormai quasi 15 anni lavoriamo sulla qualità dell'esperienza. Dunque facciamo attività di ricerca e valutazione per valutare e migliorare le diverse dimensioni della qualità dell'esperienza. Dunque lavoriamo con le persone, cerchiamo di ascoltarle, coinvolgerle, osservarle per migliorare la qualità di prodotti, servizi, spazi costruiti o quello che vi viene in mente. Quando parliamo però di esperienza, di che cosa parliamo? Secondo me perdere 30 secondi per allinearci su questo può essere importante. Per noi parlare di esperienza vuol dire ovviamente parlare di usabilità che è la fallecilità con cui io uso qualcosa. Per esempio, che ne so, le forbici. Ogni volta che dico questa cosa cerco di usare un oggetto diverso, giusto per variare. Oppure se io amplio il concetto di esperienza e i momenti che precedono e seguono l'interazione dunque alle mie aspettative di utilizzo e dunque come mi aspetto che le cose funzionino oppure alle mie reazioni positive o negative di utilizzo si parla di esperienza d'uso. Se vado a ampliare ancora di più tutto il mondo esperienziale a tutte quelle che sono le componenti relazionali con un marchio ovviamente si passa dalla user experience alla cosiddetta customer experience. Dunque lì il tema non è più solamente l'utilizzo di un oggetto o il mio avvicinamento, no? Reazione a un oggetto ma sono anche tutte le politiche identitarie di quell'oggetto prezzo, marketing, assistenza post vendita e così via. Questo in termini generali è la qualità dell'esperienza e le dimensioni di esperienza su cui lavoriamo però non ci dobbiamo mai dimenticare che per noi l'esperienza in particolare quando parliamo di pubblica amministrazione deve essere anche inclusiva e dunque deve essere accessibile e cioè deve poter essere vissuta dal più ampio range possibile di persone comprese quelle con disabilità che possono essere visive, uditive, motorie, cognitive possono essere, come dire, temporanee piuttosto che situazionali, permanenti e così via ma allo stesso modo devono essere anche delle esperienze sicure quando progettiamo qualcosa ci dobbiamo preoccupare che queste non possano creare dei danni durante l'utilizzo faccio sempre l'esempio che mi diverte molto perché mi è capitato direttamente il messaggio mandato all'amante sulla chat di scuola del figlio quello, per esempio, è un grosso rischio da tutti i punti di vista economici di salute, sociali, ambientali vi assicuro, insomma detto questo però veniamo un po' al tema e a come questo concetto di qualità che noi poi lo vediamo sempre normalmente insieme però se lo vogliamo dividere in usabilità e accessibilità in che modo impatta le pubbliche amministrazioni e se questo è un problema o un'opportunità parlo di problema o opportunità perché sicuramente noi oggi abbiamo un problema e questo problema qual è? è che abbiamo ovviamente qualcuno che progetta qualcuno che implementa un sistema quando questo sistema inizia a essere utilizzato normalmente iniziano i problemi sia grosse perdite di soldi per attività correttive su un sistema che non aveva le caratteristiche che doveva avere d'accordo sia banalmente fallimenti di progetti e cioè sistemi che non solo hanno dei problemi ma tanti sono i problemi che gli utenti decidono semplicemente di non utilizzarli questo ovviamente non lo diciamo solo noi ma è un dato abbastanza acclarato che possiamo trovare anche in dei dati aggregati come quelli del DESI che sarebbe il Digital Economy and Society Index della comunità europea che ci dice cosa se noi prendiamo questi dati vediamo che siamo un po' sotto la media europea in termini di alfabetizzazione digitale chiamiamola così siamo un po' sotto anche rispetto al livello di completezza dei servizi pubblici online dunque la disponibilità di servizi pubblici online ma abbiamo invece un grosso gap rispetto a chi utilizza i sistemi online dunque cosa vuol dire che noi abbiamo i servizi ma non abbiamo gli utenti che li utilizzano e questo perché avviene? questa è la stessa European Commission che ce l'ha detto nel DESI del 2018 considerate che siamo terzultimi adesso se non ricordo male o penultimi o terzultimi per diversi anni siamo stati ultimi però qual è il tema? è che tra le ragioni di questo gap c'è sicuramente anche un problema legato alla qualità dei servizi che noi eroghiamo ora se vogliamo andare un po' in profondità rispetto a questo problema lo possiamo fare attraverso uno studio che abbiamo fatto appunto Ergo Project ANGES insieme agli osservatori perché abbiamo detto ok tutti dicono che ci sono dei problemi sulla qualità dei sistemi facciamo un esperimento direttamente noi andando a valutare alcuni dei servizi dell'APA e vi racconto brevemente quali sono stati i risultati di questo studio dunque l'idea era valutare la qualità dell'esperienza con alcuni servizi offerti dall'APA alcuni servizi principali abbiamo preso un campione di 67 partecipanti il numero 67 non è che ha un valore esoterico eravamo partiti da un campione di 100 poi ovviamente abbiamo fatto una scrematura è venuto 67 fortunatamente non è venuto 66 perché altrimenti diventava più scomodo giustificarlo diciamo così e abbiamo chiesto loro li abbiamo visti osservati adesso vi spiego meglio cosa intendo mentre usavano quattro tipi di servizi emblematici direi della pubblica amministrazione il pagamento della Tari il pagamento di sanzioni amministrative l'iscrizione alle scuole comunali e il download dei certificati di nascita e residenza dall'anagrafe li abbiamo fatti confrontare con questi servizi facendoli misurare con due tipo di attività macro diciamo così la prima era di trovare il servizio perché spesso questi servizi sono all'interno di piattaforme appunto del comune eccetera eccetera che contengono una pluralità di servizi e dunque ci interessava intanto sapere come se trovavano il servizio e poi ci interessava vedere come utilizzavano il servizio che cosa abbiamo trovato ovviamente vi faccio vedere dei risultati molto rapidi no? non abbiamo tempo ma poi se volete ne possiamo parlare diffusamente qui vi faccio vedere alcune delle misure oggettive e soggettive che abbiamo raccolto vi spiego un attimo quando parlo di tasso di successo curiosità voi vedete il mouse se lo muovo farneticando giusto per capire se ha senso che lo muovo su una parte della slide o non si vede? si vede si vede perfetto allora vedete qui questa metrica qui che è il successo che cos'è una metrica oggettiva cioè è la percentuale di persone che sono riuscite a raggiungere l'obiettivo che avevamo dato loro e cioè trovare il posto dove si poteva pagare la tari la multa eccetera eccetera l'usabilità percepita è invece una metrica cosiddetta soggettiva che ci dà una misurazione della percezione soggettiva della facilità d'uso del sistema con cui le persone si sono confrontate e dunque come vedete qui insomma ci sono state tante differenze di qualità dell'esperienza se guardiamo queste metriche a seconda del servizio come vedete la nagrafe ne è uscita fuori che è uno di quelli più recenti molto bene mentre invece la scuola ne è uscita fuori molto male la tari è altrettanto per quanto riguarda l'utilizzo le multe un po' meglio per trovarlo ma poi comunque un'interazione molto complicata nel momento in cui lo devo effettivamente utilizzare scusate impazzito al computer dunque che cosa abbiamo in termini macro trovato attraverso questo studio è che sicuramente i servizi offerti dalle PIA locali non sono molto ben comunicati e pubblicizzati sui siti dei comuni di riferimento e allo stesso modo l'utilizzo di questi servizi fa emergere una serie di criticità tanto legate ad aspetti di design dunque quanto la procedura che utilizzo gli elementi dell'interfaccia che utilizzo sono facili da usare le forbici due buchi infilo le dita tutto facile su un'interfaccia quando devo capire quale tasto premere in basso a come si chiama questo può diventare un pochino più complicato e anche rispetto alle procedure che sono molto spesso organizzate come dire burocratico centriche più che cittadino centriche ma l'altra cosa che vi voglio dire più rilevante secondo me è un'altra metrica soggettiva che abbiamo raccolto è il cosiddetto NPS l'NPS è quel Net Promoter Score che va tanto di moda che è la domanda vi sarà capitato anche a voi che ti chiede quanto è probabile che da 0 a 10 consiglieresti questo servizio a un collega o un amico l'NPS però di fatto è una misura su cosa sulla fidelizzazione ma a me piace di più indicarlo con una parola che è il bassa parola l'NPS fondamentalmente ci dice ok quanto è facile è probabile che quella persona farà un passaparola positivo o negativo su questa cosa immaginate quanto per la pubblica amministrazione questa cosa è importante la pubblicazione la pubblica amministrazione non ha budget di marketing da investire per spingere alla scoperta e utilizzo di un servizio è il passaparola il segreto e il motivo che qui ci dice che abbiamo un NPS molto basso su Tari e molte è una delle spiegazioni del bassissimo utilizzo rispetto alla media europea dei servizi pubblici perché noi correntemente difficilmente parliamo bene di un servizio pubblico digitale ci sono delle eccezioni come nel caso dell'anagrafe ma questo sta alla base dello scarso utilizzo dunque più noi lavoreremo sul migliorare i servizi più migliorerà il passaparola e più vedremo un cambiamento macroscopico in quella metrica che abbiamo visto del DESI bene ricordiamoci che una soluzione c'è e tra l'altro è anche obbligatoria se noi andiamo a vedere sulle linee guida di design scusate faccio un passo indietro io ho fatto un esempio legato all'usabilità rispetto alla facilità con cui utilizzo un servizio eccetera rispetto all'accessibilità anche probabilmente c'è una forte componente che incide sullo scarso utilizzo dei servizi pubblici anche rispetto alla non adeguatezza di quei servizi per essere utilizzati a un ampio range di persone su quello però abbiamo meno dati anche se abbiamo il monitor il monitoraggio dell'agit degli obiettivi dell'accessibilità non entro in tecnicismi se volete poi ci entriamo però è difficile dire quanto impatta l'accessibilità rispetto alla scarsa adozione sicuramente ancora anche in termini di accessibilità abbiamo molto da fare sui sistemi per favorirne l'adozione in maniera anche inclusiva e non discriminatoria dunque la soluzione ce l'abbiamo ed è obbligatoria come sapete nelle linee guida di design sia scritto chiaramente che deve essere garantito il rispetto della legge stanca che conosciamo benissimo poi possiamo entrare nel dettaglio ma voglio lasciare spazio poi alle domande alla fine ma è altrettanto chiaro l'obbligo rispetto alla esperienza d'uso più generale tra l'altro come dire questa parte in parte l'ho scritta direttamente io quando le linee guida erano in consultazione pubblica dunque questo per dire un invito a tutti quanti a partecipare alle consultazioni pubbliche dei documenti tecnici dell'APA perché per esempio io ho inciso su molte delle indicazioni delle linee guida in fase di consultazione pubblica dunque posso dire che effettivamente funziona e qui vedete come ci dice chiaramente che si deve adottare un approccio progettuale orientato alle persone capace di coinvolgere ascoltare e osservare gli utenti nelle fasi di analisi ideazione progettazione sviluppo e manutenzione dei siti servizi dunque in un'ottica di miglioramento continuo e questo non è altro che human centered design progettazione orientata alle persone per migliorare la qualità dell'esperienza ultimo ma non ultimo molti di voi lo sapranno avete i piani triennali per l'informatica dove ci sono diversi obiettivi sia legati all'accessibilità vedi obiettivi di accessibilità vedi dichiarazioni di accessibilità sia legato alla UX vedi la comunicazione dei risultati del test di usabilità sui siti istituzionali dunque di fatto andando a riassumere vi ho raccontato un po' qual è il problema ma ricordiamoci che abbiamo una soluzione ed è anche obbligatoria dunque per una volta la legge è anche utile questo non accade sempre e ti ho convinto non lo so questo me lo direte voi ripasso la palla a William e poi ovviamente approfondiamo tutte le domande che doveste avere nella parte di Q&A grazie se sai ma quello non è di tu comunque l'ultima te la vedi spero di no William almeno per qualche anno ancora spero di no grazie per averlo chiesto comunque prego prego ricondivido lo schermo soltanto per fare un ultimo breve perché ho visto che con i tempi siamo ordinati ma potremmo aver fatto anche di meglio il bando sac 2 parliamo due minuti giusto due minuti del bando sac 2 perché è lo strumento che è in questo momento a cui si può accedere in questo momento per impostare un'analisi con i servizi di cui abbiamo visto noi siamo il bando sac 2 mentre chi ci ascolta sa perfettamente che cos'è probabilmente anche molto meglio di noi sta parlando dei servizi applicativi in ottica cloud per le PA centrali e noi siamo fra le RT assegnatari del bando dell'8.1 con capofila NTT data questo bando può essere utilizzato per tutto ciò che ha a che vedere con servizi di sviluppo o di manutenzione evolutiva di software migrazioni a cloud personalizzazione di sistemi terzi manutenzione correttiva e adeguativa e evoluzione di software in co-working con l'amministrazione in tutti questi ambiti le tematiche che abbiamo visto insieme possono essere incluse anzi dovrebbero ovviamente a nostro avviso essere incluse perché disegnare personalizzare con l'aiuto la consulenza degli utenti finali e dei servizi è una prassi che sta prendendo mano a mano piede ma che dovrebbe diventare lo standard per il design dei servizi pubblici e dei servizi applicativi a chi può accedere a questo bando ovviamente tutti gli enti della pubblica amministrazione centrale quindi tutti gli organi di governance e costituzionali tutti gli enti di regolazione e vigilanza comprese anche le autorità finanziarie come Consob e Banca d'Italia gli enti di servizio pubblico assistenziali come gli enti produttori di servizi assistenziali gli enti di istituti di ricerca e gli enti pubblici che hanno collegamento con organizzazioni internazionali gli ordini professionali su scala nazionali e tutte le organismi di diritto pubblico partecipate anche in maniera maggioritaria non totalitaria dagli enti citati precedentemente il modello di ingaggio il modello di funzionamento di questo contratto è un contratto quadro quindi è un contratto multiassegnatario con divisione in tranche ogni tranche che si esaurisce apre la strada alla ART successiva nella graduatoria di assegnazione l'ente interessato alla pubblica amministrazione costruisce il proprio piano di fabbisogni e lo trasmette per prendere visioni a Ponsip sulla base del piano di fabbisogni l'RT analizza e sempre in collaborazione con l'ente trasmette un piano operativo all'ente il quale va a prova e ne fa prendere visione giustamente a Ponsip la valle si stipula il contratto esecutivo si presenta nel piano di qualità le certificazioni e si avvia concretamente il progetto ovviamente in tutto questo flusso tutto questo processo l'RT è a disposizione come struttura consulenziale per l'ente che voglia intraprendere una strada di implementazione di un progetto all'interno del SAC2 lasciamo all'interno della presentazione che poi ovviamente verrà distribuite a tutti i partecipanti anche i riferimenti sul SAC2 e i riferimenti sul portale della fornitura curato da NTT Data in collaborazione con tutte le aziende partecipanti alla RT in questo momento questo abbiamo ancora qualche minuto circa 5 minuti che possiamo utilizzare con una sessione di domande e risposte la prima domanda io la vedo nella piattaforma ed è per Simon mi senti ancora Simon? Sì sì ok la domanda recita se ci sono delle linee guida per design della pubblica amministrazione e c'è un design system che è stato anche oggetto di consultazione a cosa servono le ulteriori verifiche di usabilità e di accessibilità? Bella domanda in generale direi che tutto il lavoro che è stato fatto dal team digitale sia nel definire delle linee guida sia nel costruire un design system partendo dall'amministrazione centrali poi arrivando a quelle locali eccetera eccetera è per aiutare questa pluralità di soggetti a partire da delle buone basi a partire se volete trattarla in termini culinari da delle materie prime quando noi andiamo a cucinare il piatto con queste materie prime il modo in cui viene cucinato il piatto è importante il modo in cui assemblo queste cose e anche ovviamente il tipo di cittadini a cui mi rivolgo e quali sono le loro esigenze no prima parlavo e chiudo velocemente di progettazione orientata all'utente ma che cosa vuol dire e lo dicono anche le linee guida cosa vuol dire fare progettazione orientata all'utente vuol dire che comunque quando progetto un servizio mi devo domandare chi sono le persone che lo riceveranno che caratteristiche hanno che esigenze hanno che problemi incontrano e poi sulla base di quello accompagnare la creazione della soluzione progettuale attraverso delle verifiche iterative con le persone che mi permettono di essere sicuri che io ho capito bene chi sono le mie persone che esigenze hanno ma mi sto anche preoccupando di verificare che la soluzione progettuale che ho immaginato pensando a loro dopo averli ascoltati effettivamente risponde alle loro esigenze dunque il lavoro che è stato fatto di standardizzazione di creazione di strumenti per la PIA per dire uno degli strumenti che sta nel kit è un protocollo per i test di usabilità a cui ho partecipato personalmente per la creazione e dunque io credo che sia fondamentale dare strumenti alle PIA in modo che quante più PIA possibili possano maturare in termini di cultura della qualità del servizio al cittadino ma allo stesso modo essere consapevoli che poi c'è bisogno sempre di mantenere un processo di qualità nella creazione dei servizi senti visto che mi non so è una cosa di cui abbiamo parlato in passato William ah poi vedo che c'è anche una domanda rispondiamo anche quella ero curioso di conoscere la tua opinione i sistemi della PIA non l'abbiamo detto prima sono usabili da un amplissimo range di persone ok sia il tema dell'inclusione ma in generale anche se pensiamo quanto la popolazione italiana è varia eterogenea in termini di alfabetizzazione censo insomma mille cose ok e come possiamo assicurarci che i sistemi siano semplici e comprensibili per tutti cioè io mi domando a volte se non dovremmo accettare che magari qualche sistema non debba essere per forza usato da tutti tu che ne pensi ne abbiamo parlato questa è una domanda che apre potrebbe aprire ovviamente nel momento un dibattito filosofico psicologico cioè è giusto è giusto progredire accettando il rischio che qualcuno si è lasciato indietro oppure no oppure magari è utile progredire a velocità distinte e fare in modo che il progresso sia inclusivo quindi si aggiungono tutti coinvolti e questo diciamo la risposta però non può che essere una la cosa pubblica è pubblica perché la resta pubblica è pubblica perché si occupa di esigenze dei cittadini a 360 gradi quindi tutti devono essere messi nelle condizioni di poter partecipare al processo come si fa? è un processo non semplice ma si fa con gli strumenti che hai citato tu precedentemente si fa con la consultazione pubblica prima di tutto ma non è sufficiente si fa con la ricerca di coinvolgere utenti o comunque campioni rappresentativi di utenti per verificarne prima di tutto le aspettative rappresentativi di utenti anche di utenti che hanno difficoltà a partecipare quindi utenti con disabilità per verificarne prima di tutto le aspettative poi una volta che si sono due varie esperienze di sviluppo andarne a verificare effettivamente che siano state rispettate le aspettative degli utenti e quindi che i riscontri i feedback siano effettivamente positivi e questo è un processo è un continuo è un processo che non può interrompersi in una volta non è un processo una tantum è un processo che deve accompagnare l'evoluzione quotidianamente nel giorno dopo giorno è l'unica maniera per avere il progresso ma non a scapito di nessun settore della popolazione secondo me ma credo che possiamo essere abbastanza d'accordo su questa discussione abbiamo ancora assolutamente se vuoi aggiungere qualcosa prego no no sono d'accordo assolutamente vediamo c'erano alcune domande dunque approfitto per rispondere la prima risponde i tool automatici per la verifica dell'accessibilità sono efficaci bastano per essere compliant allora la risposta breve è no la risposta più lunga e articolata è gli strumenti automatici possono avere un ruolo nella verifica tecnica di accessibilità rispetto alla verifica di alcuni dei criteri di successo cioè i requisiti di accessibilità sono di fatto i 50 criteri delle WCAG 2.1 per quanto riguarda il livello A e doppia A ok qual è il problema degli strumenti automatici che riescono a verificare solo una parte di questi criteri a seconda di a chi chiedete questa cosa vi risponderà che è un 20% 30% 40% o quello che è comunque una parte minoritaria e non sufficiente perché perché ad oggi agli strumenti automatici ancora manca la capacità dell'uomo di valutare la parte semantica cioè la capacità del sistema di riuscire effettivamente a veicolare un significato faccio l'esempio classico lo strumento automatico mi dice se c'è un testo alternativo di un'immagine che possa essere letto da un lettore di schermo non mi può dire però se quel testo alternativo effettivamente è in grado di trasmettere il senso il significato la funzione di quell'immagine dunque sono strumenti che possono avere un ruolo su sistemi con tante tante pagine ma comunque ricordiamoci che non riescono a verificare tutti i criteri di successo altra domanda qual è il percorso ideale da seguire per arrivare a contribuire attivamente e professionalmente al miglioramento di questi processi di testing e analisi allora domanda super complessa direi dunque dipende tendenzialmente io consiglio sempre di partire da qualcosa che sia particolarmente visibile perché l'importante in realtà è fare sensibilizzazione all'interno delle organizzazioni dunque dico per dire è importante non lo so fare dei test di usabilità che possono vedere il maggior numero di stakeholder possibili è importante portare gli stakeholder nel contesto d'uso delle persone è importante spingere gli stakeholder a usare i sistemi per fare loro esperienza diretta anche di quello che vuol dire usare quei sistemi dunque la prima parte della risposta è laddove abbiamo un'organizzazione ancora con un basso livello di maturità sul tema dove è bene partire da attività che dimostrino chiaramente il vantaggio di fare questo tipo di attività se invece parliamo di organizzazioni complesse dove la maturità è più alta e allora lì c'è tutto un approccio più legato alla cosiddetta industrializzazione della ricerca con le persone quella che oggi chiamiamo le research operations e dove il centro è definire una strategia ovviamente competenze processi procedure tutto quanto però se lo dovessi sintetizzare a qualcosa è lavorare di più sul concetto di insight management cioè su come gestire l'incredibile mole di informazioni che le persone ci danno e come mantenerle vive all'interno dell'organizzazione in modo che possano guidare le scelte dell'organizzazione e il miglioramento continuo della qualità dei sistemi non so se ho risposto io non vedo altre domande nel chatbot non vedo a questo punto siamo perfettorali perché sono 17.50 credo che possiamo salutare faccio Simon se sei d'accordo perfetto ringrazio tutti anche voi per avermi invitato e per qualsiasi ovviamente curiosità vale del webinar scriveteci pure ci fa sempre piacere continuare la conversazione anche su altri tavoli diciamo così grazie Simon grazie a tutti i partecipanti riceverete nei prossimi giorni tutte le slide presentate in questo seminario per qualsiasi ulterior dettaglio o chiarimenti i nostri canali sono sempre aperti buona serata a tutti arrivederci ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti